Si è appena chiusa la fase di lettura che i 500 alunni hanno fatto dei 63 titoli arrivati in concorso e ora l'Associazione Letteraria è ben lieta di donare i titoli, le opere, i 63 romanzi appunto alla città di Fano. E quindi sabato 13 giugno dalle ore 18 presso la Mediateca Montanari saremo ben lieti di ospitare tutti in una serata in cui fra letture, cibo, musica avverrà questa donazione. Da quel momento in poi tutti i fanesi potranno andare a prendere i libri per leggerli e quindi essere pronti con noi a ospitare le giornate di letteraria che saranno il 9, il 10, l'11 ottobre 2015. Giornate dove arriveranno i cinque autori finalisti e dove verrà assegnato il premio.